Che bei tempi quando esisteva questo bug, era il periodo perfetto per rancare tantissimo e puntare alla classifica perché ti permetteva di fare tantissime coppe dato che il gioco ti matchava con persone con coppe molto più basse rispetto alle tue ed era semplicissimo attivare il bug, infatti bastava perdere 3 partite consecutive in sopravvivenza così in automatico il gioco ti metteva contro persone con 0 trofei, 8 trofei, 10 trofei cioè persone che avevano appena iniziato a giocare